Mr. Davo dice Daniele com'è possibile che mi arrivi una bolletta di 150 euro con solo 20-30 euro di consumo effettivo? Eh volete vivere in Italia raga? Volete vivere in Italia? Eh dovete pagare E il pagamento del vivere in Italia Sembra che vivere in Italia sia un privilegio? Lo devi pagare così Lo devi pagare con la benzina più alta, lo devi pagare con l'IVA più alta, lo devi pagare con le bollette più alte, tutto qua Perché io vivo dall'altra parte del mondo? Perché costa tutto meno Cioè la benzina io qui la pago neanche un euro, molto meno di un euro, la pago 80 centesimi, 70 centesimi, quanto la pago? T7, 80 centesimi, via La pago 80 centesimi, voi la pagate molto di più, la benzina è sempre la stessa Quindi perché la pagate? Perché voi avete le tasse dove state ancora pagando la diga del Vaiont e qualche altra roba E mille altre tasse che ci stanno Spendi 30 euro di elettricità? Sì, a parte l'elettricità ti costa tre volte quello che costa in giro per il mondo In più paghi tasse e spese varie Qui abbiamo un IVA al 7% Voi ce l'avete al 22, al 23, non so neanche quanto state Quindi io compro la roba con già un 15-20% in meno rispetto a quello che lo pagate voi Solo perché voi vivete in Italia e dovete pagare la macchina statale che costa un sacco di soldi Perché dovete pagare le auto blu, dovete pagare i governanti, dovete pagare le pensioni di tutti i governanti precedenti Che dopo 4 anni se ne sono andati in pensione Volete vivere in Italia? Pagate Quindi la tua risposta è perché su 20-30 euro paghi 150? Perché vivi in Italia Vi piace vivere in Italia? Pagate